E adesso ce ne andiamo. Partiti. E' in vantaggio Tropical davanti a Montefanum, Agnesotta, Sunrise Spirit, Winnie of Rock, Angel Force, Miss Dronio e Napoli Madre. Dopo 200 metri di corsa è in vantaggio Agnesotta davanti a Sunrise Spirit, Winnie of Rock, Aleynad, Montefanum, Angel Force. All'inizio della curva prosegue in vantaggio. Passa Sunrise Spirit davanti a Aleynad, Agnesotta e Montefanum. I cavalli entrano in dirittura. E' in vantaggio Sunrise Spirit lungo la corda davanti a Aleynad, Angelforce a centropista, Winnie of Rock, Agnesotta, Perlini interne, Montefanum. All'interno è Sunrise Spirit, all'esterno Angel Force, a Edua e a Aleynad. Passa Angel Force davanti a Sunrise Spirit, Aleynad e Napoli Madre. E' in vantaggio Angel Force davanti a Sunrise Spirit e Aleynad. Il vincitore annunciato, 1.81, non poteva perdere Christian De Muro al Tris in giornata. E c'è ancora un'altra corsa probabilmente in cui potrà cercare di farsi valore.